Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul canale YouTube di MCS Software. Questo video tutorial è dedicato al contesto e all'argomentazione VBS. Vedremo come gestire con ArcVision computi da Revit a Primus strutturati in VBS multilivello. Per fare questo, innanzitutto ringrazio l'azienda Arcadis di Milano che ci consente di poter accedere a un loro progetto, progetto che hanno anche realizzato in collaborazione con dei loro sub fornitori e che è una testimonianza di come si possa lavorare con ArcVision e con i file che contengono le misurazioni e l'organizzazione VBS anche tra più aziende. Per fare questo, apriamo questo file che ci ha proprio concesso Arcadis di Milano e che nuovamente ringrazio. È un progetto che è stato fatto in sinergia, quindi è un progetto che è stato gestito in collaborazione e non solo sono stati scambiati i file Revit, ma in questo caso i clienti si sono anche scambiati il file RRF che per chi conosce ArcVision è il file che contiene tutte le misurazioni. Quindi questo patrimonio di gestione della codifica VBS è stato in qualche modo condiviso tra la clientela di MCS che utilizza proprio il modulo PRO di ArcVision RP. Questo è il progetto su cui noi ci andremo a concentrare. Proseguiamo, avviamo il ArcVision RP 21 con l'occasione ringrazio nuovamente Arcadis per la disponibilità. Avviato ArcVision, avviamo subito Primus e analizziamo il primo step che ha fatto il cliente che noi consigliamo che è quello di organizzare in Primus la struttura VBS. Questo è l'edificio, è un stato parziale di progettazione ma che è più che sufficiente per comprendere il modus operandi e i passaggi che il cliente deve fare per sfruttare al massimo Revit, i parametri VBS all'interno di Revit e la codifica VBS all'interno di Primus. Quando parlo di parametri VBS sono parametri distanza eccoli qua, che vengono assegnati all'interno di Revit. Questo vuole anche dire che con ArcVision potete utilizzare progetti già esistenti che abbiano già una loro codifica. Chiaro, se la codifica esiste, è tanto di guadagnato perché il lavoro viene completamente recuperato. Apriamo un file, una struttura VBS di partenza. Primus ha una gestione della struttura VBS molto efficiente, la vediamo, dati generali, VBS, attivo la VBS, eccola, questa è la VBS. Magari consentitemi di portare un attimo Primus in primo piano. Questa è una struttura che il cliente ha preparato. Questo è un lavoro che va fatto, un attantum, ed è un lavoro che l'operatore deve fare con grande pazienza. è molto semplice, molto intuitivo, molto facile, quindi Primus, devo dire, è veramente un grande aiuto, vi permette proprio di gestire con questa struttura d'albero la vostra VBS, che è un patrimonio, quindi voi potete fare proprio un file soltanto con la struttura VBS, lo potete salvare e se necessario lo potete usare anche su più progetti. Allora, abbiamo preparato la nostra VBS, chiudiamo un attimo il file a VBS e andiamo ad importarlo in ArchVision. Quindi il primo step è di preparare la struttura VBS dentro a Primus, salvarla in un file dedicato, il secondo step è quello di importare la struttura in Revit, in ArchVision RP. Per fare questo è sufficiente selezionare una qualsiasi entità, muro, porta, finestra, qualsiasi soggetto, perché tanto è uno step da farsi indipendentemente dall'oggetto selezionato, e in ArchVision RP possiamo lavorare o per istanza o per famiglia, anche in questo caso non fa nessuna differenza. Vedete, questa è la configurazione che il cliente ha già fatto, chiaramente stiamo lavorando su un lavoro che è già fatto, quindi in questo video non vado a spiegarvi come fare tutte le associazioni e il drag and drop, queste sono demandate ad altre videoguide, ma vediamo invece come andare a attivare la struttura VBS all'interno delle misurazioni. concentriamoci su uno strato, uno vale l'altro sostanzialmente, e importiamo la struttura, quindi doppio clic, andiamo in gestione VBS, quindi come dicevo il secondo step, quello successivo è quello di andare in gestione VBS, il software ci avvisa che stiamo attivando il dialogo di gestione della VBS, questo dialogo illustra il contenuto della VBS assegnata, in questo istante il file è vuoto, quindi lo step successivo è quello di importare la VBS che ci siamo precedentemente preparati da Primus. struttura VBS, apriamo la struttura VBS, sono state importate 534 voci, magari diamo un espandi, eccole, sono queste, e corrispondono esattamente alla struttura che abbiamo visto in precedenza. Vediamolo ancora un attimo, un secondo, andiamo nuovamente in dati generali, andiamo in VBS, VBS, eccola qua, vedete, sono proprio paritetiche le voci, proprio la struttura viene completamente importata, in modo molto fedele all'interno di Revit. Ok, quindi, vista e fatta questa verifica, chiudiamo la gestione di VBS in Primus e chiudiamola anche qua, quindi qua basta dargli esce, non devo dare seleziona, perché? Allora, se do seleziona, io cosa faccio? Prendo per esempio questa voce, 1.1.6, do seleziona, e lui qui va a segnare direttamente questa struttura VBS. Questo serve qualora non abbiate dei parametri in Revit. Non è obbligatorio avere dei parametri condivisi in Revit, ma potete tranquillamente fermarvi a questo livello e fare la vostra assegnazione, quindi immaginiamo di andare su Impermealizzazioni, se gli dico seleziona, vedete, lui crea su questa misurazione la voce Impermealizzazioni. Visto che il cliente in realtà ha già fatto il lavoro, io a questo punto gli dico esci e non salvo. Questa, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che, come vedete, il cliente è andato a prelevare questi parametri. Come si fa a prelevare questi parametri? Allora, lo si fa in questo modo. Siamo qui, il parametro è il quarto, quindi guardate, doppio clic, anziché premere Gestione VBS, premo il pulsante P. Questo pulsante è quello che vi permette di accedere ai parametri di istanza e di tipo delle entità selezionate, come vedete, qua abbiamo un esempio valido, noi possiamo, in cascata, comporre la nostra codifica andando a prelevare più parametri. Quindi, per esempio, lui adesso sta già puntando al parametro 4, ma io volendo, in questo caso il cliente non ha fatto così, ma io volendo potrei dirgli parametro 2, vai a prendere, per esempio, il parametro 2, vedete, lui va a rilevare il valore e mi va a comporre il parametro VBS, che è poi quello che verrà archiviato nella misurazione, terzo parametro, vado a prendermi un terzo parametro e così in cascata. Quindi qui il cliente, in questo caso, ha già fatto per ciascun parametro VBS una codifica completa, ma volendo potete anche comporre i parametri in cascata fino a un decimo parametro, quindi voi potete in cascata aggiungere tutti i parametri fino a 10 livelli. Adesso io torno chiaramente nelle condizioni iniziali, quindi chiudo i parametri, mi tengo solo il primo parametro, che è quello che ha sostanzialmente già fatto il cliente in questo suo grandissimo lavoro. Ho voluto usare questo lavoro perché è un lavoro molto professionale, vi posso confidare che mi è capitato in rare occasioni di vedere lavori così completi e professionali. Allora, chiudiamo la misurazione, potrei anche dare esci perché in realtà vi ho solo fatto vedere come è stato fatto il lavoro, non ho modificato nulla, quindi diamo tranquillamente un esci. Chiudiamo il dialogo misurazioni, andiamo a computare solo questo muro, guardate, iniziamo con questo muro così vediamo subito il comportamento. Vado a generare il computo di questo primo muro, per attivare la VBS dovete attivare l'uscita in formato XPWE, abilitiamo la struttura VBS, poi al limite vedremo anche RavitFind che è una delle novità della Release 21 e gli dico prosegui. Lui in questo istante mi va a generare un primo computo e un computo chiaramente parziale perché abbiamo selezionato soltanto un muro, ma già da qui capiamo come a partire da un muro, se ricordate, aveva tutta una serie di assegnazioni già fatte, ecco di qua, tutti gli strati, quindi è vero, noi abbiamo selezionato un muro, ma si è portato e si è trascinato tutto questo grande lavoro. Li abbiamo tutti qua elencati, rigorosamente con il proprio ID e già qui vediamo la struttura. Allora vediamo un attimo velocemente la struttura che abbiamo ottenuto, chiaramente sarà parziale perché vedete abbiamo la torre, la torre 2, qui il cliente ha organizzato il lavoro per torri, quindi torre 2, andiamo a vedere un attimo, eccolo qua, vedete quelli in grigio semplicemente non sono stati utilizzati, quelli in eretto effettivamente sono attivi, eccolo qua. e poi chiaramente attiva filtro e io qui mi trovo filtrato lo strato proprio in questione, con una precisione, una professionalità veramente molto, molto, molto avanzata. Allora, chiudiamo un attimo il dialogo misurazioni, facciamo un'altra cosa, andiamo a dirgli semplicemente seleziona tutte le istanze nell'intero progetto, quindi in questo caso il muro non è più uno ma sono diventati 20. Velocemente Quick Computo, Quick Computo è un'altra novità della Release 21, il computo viene chiuso, viene aggiornato, è riaperto, aggiornato. A questo punto qui possiamo fare per esempio un restringi tutto, eccolo qua. Questi sono i 20 muri che abbiamo selezionato e anche qua la struttura viene chiaramente ampliata. Vedete che a questo punto abbiamo anche coinvolto la torre 1 e quindi anche sulla torre 1 abbiamo tutte le voci che sono state computate. Direi che a questo punto siamo in grado di fare un computo completo dell'intero edificio. Per fare questo una delle novità di ArcVision RP21 è quella per esempio di non selezionare nulla, lanciare semplicemente il quick computo che vi ricordo il quick computo mantiene e riutilizza la configurazione fatta durante l'ultimo l'ultimo computo, anzi vi dirò di più, facciamo una cosa, complichiamoci ancora di più la vita, guardate, gli dico che voglio sì selezionare l'intero complesso, qui questa funzione fa sì che il software in questo istante si stia selezionando l'intero progetto in background, vado però come dicevo addirittura a complicarmi ancora di più la vita, cioè dico al software, eccolo, intanto nel frattempo guardate è stato selezionato tutto il progetto, non solo attivo la WBS ma attivo anche la gestione nelle supercategorie dei livelli quindi avremo alla fine un computo completo organizzato e per livelli ma anche con la struttura WBS diamo prosegui e lanciamo il calcolo sull'intero sull'intero complesso l'elaborazione inizia in questo istante il software sta eseguendo anche una verifica di eventuali entità che non includano delle associazioni vuote perché io potrei avere per esempio un elemento che ha la codifica WBS vuota quindi in questo caso il software si intercetta un elemento chiamiamolo orfano senza parametri WBS riepiloga in un elenco tutti gli id delle singole entità che in qualche modo non hanno un oggetto assegnato in modo corretto quello che andremo ad ottenere è un computo organizzato e filtrabile con i filtri di Primus sia per livelli che per WBS chiaro che la struttura WBS e il computo filtrato in WBS lo si può fare anche su progetti chiaramente più piccoli questo è un esempio di un progetto significativo e piuttosto impegnativo dopo alcuni istanti Primus chiude il computo precedente lo sincronizza e lo aggiorna in funzione delle entità aggiornate nel progetto Revit e lo apre aggiornato eccolo qua vediamolo dal vivo questo è un computo che chiaramente ha un importo decisamente superiore permettetemi di portare Primus in primo piano analizziamo un attimo il lavoro svolto da ArcVision ora intanto avendo attivato la gestione anche dei livelli dei filtri ecco che abbiamo il nostro computo che è anche filtrato qualora fosse necessario per livelli quindi noi abbiamo detto al software che per esempio era così c'era la volontà di attivare l'opzione di filtro per livelli magari portiamo ecco qua primo piano finito vedete quindi abbiamo organizzato la struttura delle categorie delle supercategorie primo piano finito destro del mouse attiva filtro e qua abbiamo vedete filtrato il primo piano in rosso le detrazioni vi ricordo quindi dalla Rallys 21 abbiamo l'ID dell'entità ma anche l'ID del muro e poi in questo caso per esempio invece i materiali che sono stati computati con il loro ID le loro caratteristiche disattiviamo un attimo il filtro e passiamo ad analizzare la struttura VBS quindi questo è quello che si può ottenere se non si dispone del modulo VBS invece come avete visto disponendo del modulo VBS che è un modulo che si chiama PRO in realtà che è opzionale otteniamo un computo che può essere filtrato per VBS quindi concentriamoci per esempio sulla torre 1 andiamo a vedere questi impianti andiamo sulle impermealizzazioni attiva filtro e queste sono le impermealizzazioni organizzate all'interno del computo e filtrate in questo modo la struttura la struttura VBS in questo caso viene comunque inclusa nel progetto quindi se noi andiamo in VBS attiviamo la VBS ci ritroviamo la VBS perché la VBS viene comunque inclusa nel computo generato come anche l'elenco prezzi questo è l'elenco prezzi che è incluso nel computo anche in dati generali la stessa cosa dicasi per le categorie quindi super categorie e qui abbiamo l'elenco di tutte le categorie che sono state importate direttamente da Revit per finire vediamo ancora un attimo al lavoro il Revit Find quindi ritorniamo sulle misurazioni andiamo per esempio a concentrarci su una detrazione concentriamoci sul piano primo finito selezioniamo per esempio questa detrazione doppio clic ctrl c eccola qua andiamo a riportare Primus accanto a Revit passiamo una visualizzazione per esempio a Wayframe e questa è la finestra che è stata selezionata poi qui in Revit con gli strumenti di Revit possiamo isolarla possiamo navigare e andare a vedere all'interno dell'edificio dove è ubicata io con questo esempio avrei concluso ringrazio ancora l'azienda Arcadis di Milano il loro BIM Manager l'amministrazione e la direzione che mi ha consentito di generare questo video tutorial è un lavoro professionale ho voluto usare questa testimonianza anche per rimarcare la possibilità di collaborare tra clienti MCS potendosi scambiare non soltanto i file di Revit ma proprio come in questo caso anche file RRF che poi sono il frutto il cuore di tutto il lavoro fatto la gestione di questi parametri chiaramente è un lavoro che va fatto dall'operatore quindi ArcVision è un grande aiuto fa delle cose molto sofisticate molto potenti ma la preparazione della struttura VBS quindi il primo step che abbiamo visto all'inizio del video e l'assegnazione elemento per elemento con la codifica corretta questo è un lavoro che va comunque fatto dall'operatore e proprio per questo ho voluto usare questa testimonianza perché è un lavoro che mi è capitato di vedere in rare occasioni ancora grazie a tutti grazie per l'ascolto vi demando alle altre video guide disponibili sul canale youtube e ringrazio ancora le aziende 3T Progetti e Arcadis grazie a presto saluti Claudio Musa